Come è la Casa della Carità? Con la Casa della Carità sicuramente possiamo trovare una valida collaborazione per venire incontro alle necessità di chi ha bisogno. Questo credo sia molto importante, riuscire a dare degli spazi significativi alle persone che hanno necessità e in momenti di difficoltà, perché qui poi dovrebbe essere una sistemazione provvisoria, nel senso che noi e la Casa di Carità ci daremo da fare per far trovare a queste persone una sistemazione definitiva che va nel campo del lavoro oppure altre attività e non ultimo anche il discorso dell'abitazione.